Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, questo video è stato richiesto da varie ragazze e ragazze che è un video contro il caldo, scuso se sentirete dei rumori sottofondo ma ho cercato in tutti i modi di fare questo video, io spero che vi possa piacere. Sono in bagno senza ventilatore, sto morendo di caldo, per rinfrescare la vostra estate molto molto calda, ho pensato a una ciotola piena di ghiaccioli, potete vedere ci sono dei ghiaccioli all'interno che si sono già sciolti, non è che fa caldo. Questa, adesso ve li farò vedere se riesco a poter vedere, mi piace se è già sciolto perché fa veramente molto molto caldo, ma ne prendo due se riesco a pescarti. Scusate se mi asciugo le mani, questo è un ottimo rimedio, io uso molto l'acqua ghiacciata. Questo è quello che mi ha aggiunto le mani di acqua, di acqua ghiacciata. Ghiaccioli erano tanti, ma come potete vedere si sono quasi tutti sciolti. Io adoro l'acqua ghiacciata, in estate solo la piscina, il mare, l'acqua ghiacciata in generale. Allora il ghiacciolo si scioglierà del tutto perché l'acqua ovviamente che ho versato non è fredda come quella del contenitore. Quindi si scioglierà più freddo, purtroppo hanno abbastanza ghiaccioli. Ho provato a farla con più ghiaccio, però può davvero tanto tanto caldo. Quindi si raffredda subito. Poi ho di medio contro il caldo, sono questi spray che sono senza profumo. E io li riempio con dell'acqua e delle gocce di mentolo, di tre, che si possono usare per il corpo. E poi si spruzzano così. Le metto anche un po' per rinfrescarvi. No, per l'ambiente, anche sulle gambe. L'ultimo come rinfrescante, adesso l'acqua non ho malissima. E la tengo praticamente nel fico libero, così più fredda. Non mai tettela solo nel freezer, se no mi si conceda. Poi ho altre, l'acqua. Utizzo un altro spray più grosso. Io tutti gli spray li utilizzo. Siamo per lo stesso motivo. Così per rinfrescare il muso. Così vi sentirete più freschi. E si può usare sui polsi, per rinfrescare sul decante e soprattutto sui piedi. Non mettetelo mai però sulla pancia, sulla schiena. Non vi conviene. E appunto, è un po' con acqua normalissima. Rimane forse un po' di profumo, perché comunque dovete sciacquarlo con l'acqua calda. Però poi è ottimo, veramente, per rinfrescarvi. Sto usando la mia ciotolina, che vi ho ghiacciata. Non so usando una cannuccia trasparente, perché la trovavo più bella, perché sennò avevo le pacchette di legno, però non era al massimo. Poi vi farò vedere una cosa che facevamo quando avevamo quattro anni. Mi si è piaciuto farlo. Ora per rinfrescare, ora è meglio usare questa spugnetta. Oggi togliamo la cannuccia. E immergiamo qua nell'acqua di fretta, fretta. E la passiamo così. E la passiamo così. Spero che anche se è breve questo video abbiamo un po' di rinfrescato. Scusatemi, ma purtroppo del muore si è caduto. Spero che questo video vi abbia rinfrescato un po' rilassato. Ok? Vi siete rinfrescati. Ci vediamo in un prossimo video. Vi saluto con un'altra... Questarate freschi. Ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, fate una bell'estate. A la prossima. Iscriviti al canale. Grazie.